Forse un modo per sconfiggere il cronometro è giocare ad anticipo e concludere in fretta, però il tempo per portare il saluto e ringraziamento all'invito che è stato rivolto all'Università Cattolica c'è e anche per confermare la disponibilità dell'Università Cattolica a contribuire al progetto. Quindi non solo un plauso, ma visto che si è parlato ampiamente di rinascimento, ampiamente di humanities, ampiamente di competenze trasversali, l'Università Cattolica ha qualcosa da dire a questo riguardo e vuole starci per quanto sarà possibile. Noi riteniamo, in virtù del secolo di storia che appartiene al nostro Ateneo e ai 57 anni di presenza a Brescia, che la sfida che la società contemporanea ha di fronte è una sfida di nuova interpretazione della realtà e quindi una sfida di pensiero. Questo vuol dire, accogliendo anche la sollecitazione che è venuta da tutti i testimoni all'intermini di spazio per l'espressione libera, spazio per la diversità, spazio per il superamento dei confini, che ci sia la necessità di confrontarsi con quanto l'Università Cattolica ha da proporre e propone da tempo. D'altronde questo probabilmente è l'unico modo per andare oltre la resilienza verso la plasticità, per andare oltre la ripresa, per andare verso la rigenerazione sistemica, tanto per usare un lessico che ha a che fare molto con gli studi importanti e recenti di Confindustria Brescia. E allora l'Università Cattolica, che è una storica ma anche attuale e futura espressione di un cattolicesimo innovativo e strategico perché si muove sul fronte del capitale umano, ci sta, conferma la propria disponibilità, a contribuire alla crescita di una città e di un territorio sempre più inseriti in contesti internazionali. Per cui davvero credo che sia molto importante uscire dalla logica della mera erogazione dei servizi e entrare nella logica della attrattività. Dobbiamo essere presenti nel mondo per riuscire a far sì che il mondo venga ad incontrarci. Se un ruolo per le Humanities ci deve essere e c'è, mi pare che emerga, l'Università Cattolica sempre ci sarà e sempre sarà a disposizione della crescita della nostra realtà territoriale ma globale. Grazie.